Un'associazione che da 90 anni si occupa di autoveicoli a 360 gradi, quale appunto l'Automobile Club di Perugia, non poteva non disporre di una scuola guida. A fianco della sede centrale, nel centro direzionale 4 Torri in via Corcianese 218H, è attiva infatti una delegazione guidaci di nuova generazione Ready to Go. Una scuola guida nella quale oltre ai normali corsi, alla normale formazione che viene fatta diciamo di preparazione del conducente, viene anche fatto in aggiunta una formazione sulla guida sicura, sulla guida difensiva e vengono fornite tutta una serie di nozioni che servono a diciamo formare il futuro conducente a un utilizzo più responsabile e sicuro del veicolo. Il sistema Ready to Go che non tutte le autoscuole hanno, ma è un sistema molto innovativo, molto diciamo che spinge un pochino più su quello che è la sicurezza stradale, spiegando bene ai ragazzi nel dettaglio come ci si comporta quando si ha la guida in autovettura. Hanno un simulatore a loro a disposizione che pochi hanno, un simulatore molto interessante, quindi prima di iniziare anche le guide possono utilizzare questo simulatore. L'automobile Club Perugia è inoltre titolare di un centro revisione a Ponte San Giovanni di Perugia in via della Scienza 10. Il nostro è un centro all'avanguardia dotato delle strumentazioni tecniche più innovative con personale altamente specializzato e si colloca in quella che è la nostra filosofia della sicurezza in generale. Noi abbiamo cercato di incidere sulle infrastrutture fornendo dati agli enti proprietari della strada circa gli incidenti che avvengono e spingendo anche la politica a intervenire. Sui conducenti con la formazione e l'educazione stradale, sui veicoli possiamo incidere facendo delle verifiche puntuali e tecnicamente ben fatte per far sì che i veicoli siano in perfetta efficienza e quindi anche su questo versante non rappresentino un elemento di pericolo alla sicurezza.